Fedez torna sulla questione degli insulti al figlio Leone in campo a San Siro e aggiorna i suoi fan sullo stato delle denunce che ha sporto nei confronti di alcuni utenti via social. A dimostrazione che ha proceduto con i fatti, Fedez ha pubblicato la foto della denuncia e ora aggiunta sulla questione nel corso di una diretta Instagram. Vi dico solo che è già venuto all'ovile con l'avvocato per chiedere scusa, ha detto a proposito del destinatario dell'azione legale, ma non ce la caviamo con una letterina di scuse, ci devi mettere la faccia e se non ce la vuoi mettere te la faccio mettere uguale, ha aggiunto, in sottofondo la voce di quella che sembra essere il suo ufficio stampa che lo trattiene dall'immiscrizione di più. 13